La chiamano la Morte Nera, ma non hanno idea che c'è un modo per sconfiggerla. Impadronitevi dei piani della Morte Nera e avrete una speranza di distruggerla. Attenta! Il tempo di combattere è ora! Fuoco e fiamme. Non avrei mai pensato di essere così fortunato da dirigere uno Star Wars. Lì ci sono i piani della Morte Nera. Troveremo il modo di trovarli. Le ribellioni si fondano sulla speranza. Rogue One, a Star Wars Story, prossimamente in Blu-ray e DVD. товo fa fai un grande giro. Sono i piani della Morte Nera e non avrei. L'indice nella Morte Nera e il Helvino. L'indice della Morte Nera e il sguardo. Le ribellioni si vedi di uno, noi o hardesti. Per diventeri un altro video. Per è un po' di problemi, ogni cosa sarò, tu parla. Grazie a tutti